riferisce alla chieda Buongiorno a tutti, oggi è il primo settembre 2021 e sono le ore 8, prima convocazione della prima commissione consigliare attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione e la registrazione Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala Consigliere Arrini, Consigliere Ferrandelli Considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione si rinvia la seduta alla seconda convocazione alle ore 9 Ok